C'è Suso, Canvisto, va proprio sui, attenzione, rientro sul sinistro, va proprio fino! Arrate! Suso! Madonna stronza! Dio assassino, spastici! Ma non è una puttana! Dai! Andreva! Zorro! Prova l'attacco! Dio negro! Dio! Botta calcio! Grazie! Sì! Faccio scendì! No, che ho fatto? Cario donato! Attenzione, party cross! Il centro è l'aria, è colpa di te! Chi lo sa da rasso l'ero, eh? Chi lo sa da rasso l'ero, eh? Chi lo sa da rasso l'ero, eh? Dai adesso, Dio stronzo! Tutto un minuto! C'è! C'è! Ci manca! E' andata bene! E' andata molto bene! No, il risultato dice che... Il risultato 2-2, ma noi meritavamo di vincere! Adesso, ragazzi, è perché... Assolutamente sì! Anche i minaristi, siete sportivi! Che avete fatto? Tutti rimporta! Dove, per carità! Va bene tutto quanto! Il calcio vince chi la butta dentro! Il calcio vince chi la butta dentro! Però, avete fatto tutti rimporta! E basta! E basta! L'avete fatto altro! Assolutamente niente! Noi meritavamo di vincere noi! Però, in pareggio all'ultimo minuto, me lo tengo stretto! Anche se, quella classifica ci serviva più una vittoria! Ma, vabbè... Ho capito! 8 punti, c'è... Di stacco! 8 punti di stacco! La voce non c'è più! Scusate per la blasfemia totale! Delle voci! Scusate però, ragazzi, quando si vede la partita, è così! Io non bippo niente se tiene tutta la blasfemia! Quindi, mo' mi segnalano il video, mi chiudono il canale per blasfemia dopo! Me li fai dei mille iscritti dopo! No, vabbè, nel complesso, comunque, so contento, perché avevo giocato molto bene! Quindi, se questo è l'Inter dei Pioli, l'unica cosa dei Pioli che non ho capito è perché ha messo Cacatomo! Sì, giusto! Perché ha messo, io spero, perché si è fatto male, perché se no, quel cambio è veramente... No, l'ha tolto, perché già c'era il cartellino giallo! Ah, ok! Capito? Quindi non voleva rischiare! Ah, ecco, vedi, adesso finita la partita, ragionavo, di lì per lì, volevamo ammazzare tutti, perché eravamo veramente molto nervosi! Mamma mia! Però è entrato Jovetic! Però è entrato Jovetic! E siamo ancora da capo! E siamo ancora da capo, è entrato Jovetic! Due a due! Sì! Ho portato pure bene, quindi... È entrato Murillo! Vabbè, Murillo, ragazzi, lasciate un po' un po' un po' un po' Murillo, raga, veramente, Murillo! Mamma mia! Cioè, ora, venite la commenta sotto che Murillo è forza, dai! Ma spero! Venite la commenta sotto che Murillo è forza, tanto rimpagim Il bocciore dell'acqua Il bocciore dell'acqua Riccardo inguardabile Mamma mia Ha cercato tre palloni Mamma mia Erano tre gol Inguardabile proprio zero Erano tre gol Assolutamente Scusate Per la blasfemia Un'altra volta Perché Scusate Chi è cristiano Religioso Avrà già messo dislike Ci voleva Pesanti Ci volevano troppo No vabbè Comunque niente Ci vediamo al prossimo video Spero che questa live reaction Vi sia piaciuta Con chi presenti Elia George E me Me medesimo Ma vedrai i milanisti Quanti dislike metteranno Mi avete insultato Dislike Sicuro Vabbè Ce ne sentimo al prossimo video Qui da Elia e Marchese Rossoblu George Bay E Jack Matt È tutto Ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao